Un'infermiera ruba denaro ad un paziente dell'ospedale San Salvatore, viene denunciata dalla polizia di Stato. Il personale della divisione anticrimine distaccato presso il posto fisso di polizia dell'ospedale San Salvatore ha colto nella fragranza del reato di furto un'infermiera che nell'atto di svolgere le mansioni di sua competenza in ospedale era riuscita ad asportare con destrezza ad un ignaro de gente la somma di 190 euro. L'aver assicurato alla giustizia la responsabile del deprecabile atto costituisce il risultato di attività preventivamente pianificate e condotte nel riservo assoluto a seguito dei ripetuti episodi di sottrazione di denaro ed oggetti di valore in danno di pazienti ricoverati. È anche una buona occasione per ribadire che il posto fisso di polizia resta un insostituibile punto di riferimento e presidio della polizia di Stato all'interno del nosocomio aquilano per la sicurezza della cittadinanza tutta e dello stesso personale medico.